Nel corpo dove tutto ha un prezzo, ero un mendicante. Perché leggi poesie? Ogni parola ha un significato. Non ha mai baciato nessuno, è vero? Ho conosciuto il comandante e sua moglie. Incarnerò il più grande valore della nostra nazione, la libertà e la volontà di difenderla. Tua madre è una leggenda. Mia madre non c'entra con noi. Ma è estenuante essere sua madre e suo padre contemporaneamente. Da quanto tempo siete amiche? Sono i nostri vicini, cerco di essere gentile. Loro pensano che siamo strani. Ti dà fastidio? Mi tratti come uno stupido che non sa niente. Ma sei solo una ragazzina. Vuoi ancora fare soldato? Forse. E tuo padre lo sa che quando dici soldato... ...intendi soldato maschio? Tutte e due ci disprezzano. Nessuno può mancarmi di rispetto. Non avevo in mente questo per te. Sorpresa, io esisto fuori dalla tua mente. Mio padre era musulmano, è vero? A quante cose hai intenzione di voltare le spalle nella tua vita, mamma? Noi sogniamo la pace. Tutti noi. Dopo tanti anni non so ancora se ti odio o no. Che ci sta succedendo? Con noi non ci stai più. Forse hai ragione. Non è più come prima. E' tempo di cambiare questo mondo. Io e te. Qui e ora. Noi stessi. Ti piace così? Come un maschio? Non lo so. O sei sempre tu? Rimaniamo in Italia con Volevo nascondermi sul pittore Antonio Ligabue con uno straordinario aglio germano. L'attore ha dichiarato di essere stato colpito dalla guerra che il pittore ha sempre combattuto per affermare la propria presenza in una situazione di povertà estrema. Non ha mai posseduto nulla, finché poi ha riuscito a comprarsi 15 moto e due auto vecchie che nemmeno guidava, ha detto l'attore. Per oggi è tutto. Per altri video e curiosità cliccate qui accanto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao da Valeria.